La vita indiretta La vita indiretta, Francesca Fialdini conquista la domenica pomeriggio Francesca Fialdini alla vita indiretta, la novità su Rai1. Francesca Fialdini, al timone della vita indiretta con Marco Liorni, condurà lo Zecchino d'oro 2017? L'indiscrezione è stata lanciata da Tvblog. Si tratterebbe di una riconferma per la Fialdini che già l'anno scorso ha condotto la rassegna canora per bambini al fianco di Giovanni Caccamo. Francesca Fialdini dovrebbe essere affiancata da un cast di cui non si sa ancora nulla. A differenza degli anni scorsi in cui lo Zecchino d'oro andava in onda di pomeriggio su Rai1 per quasi una settimana intera, per cinque giorni consecutivi, quest'anno avrà una cadenza settimanale, la domenica pomeriggio. L'appuntamento con la prima puntata dello Zecchino d'oro è per domenica 19 novembre alle 16.35. Si tratta in tutto di quattro puntate, le prime tre eliminatorie che termineranno alle 18.45 e l'ultima, la finalissima, domenica 10 dicembre che si protrarrà fino alle 22.00. Sarà un'edizione speciale dello Zecchino d'oro che compie 60 anni. La direzione artistica della celeberrima rassegna Canora per bambini è stata affidata, quest'anno, a Carlo Conti che condurrà una puntata celebrativa in prima serata venerdì 8 dicembre in cui si ricorderà l'ideatore dello Zecchino d'oro, Cino Tortorella, scomparso lo scorso marzo. La prima puntata dello Zecchino d'oro andò in onda il 24 settembre 1959. La vita in diretta, Francesca Fialdini regina della domenica pomeriggio? Francesca Fialdini, salvo sorprese, condurrà la sessantesima edizione dello Zecchino d'oro. Una gradita riconferma per la presentatrice della vita in diretta che per quattro domeniche, a partire dal 19 novembre, dividerà il titolo di regina della domenica pomeriggio di Rai 1 con Cristina e Benedetta Parodi. Le sorelle Parodi, infatti, dal 15 ottobre saranno le padroni di casa della nuova edizione di domenica in che, quest'anno, andrà in onda dalle 14.00 alle 17.45. Cristina Parodi passerà la linea a Francesca Fialdini che l'ha sostituita alla vita in diretta. Non era facile per la Fialdini prendere il posto di Cristina Parodi nel pomeriggio di Rai 1. La giornalista, infatti, è uno dei volti più amati di Rai 1. Francesca Fialdini ha la vita in diretta, però, è riuscita subito ad entrare in sintonia con Marco Liorni e a farsi apprezzare dai telespettatori. E' simpatica, spigliata e molto preparata. Non poteva essere altrimenti dopo anni alla conduzione di uno mattina, un altro dei programmi di punta della rete Ammiraglia Rai. Ora, se l'indiscrezione lanciata da Tvblog verrà confermata, Francesca Fialdini sarà la conduttrice dello Zecchino d'oro in onda da domenica 19 novembre in diretta dall'Antoniano di Bologna.